Diavoli rossoneri! Oggi c'è tanto da parlare, oggi c'è tanto da dire. Prima mando la sigla, una sigla particolare, una sigla speciale per l'occasione. Perché ormai mi sono stufato di ripetere che cos'è quella persona. Quindi oggi ho preparato una sigla ad hoc per lui. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidibibodibide. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidibibodibide. Diavoli rossoneri! Oggi ne ho per tutti, il giorno dopo il derby perché mi sono rotto le palle di vedere questi piangina, di vedere gente che piange, che si attacca a discorsi inutili quando le partite bisogna, come dico sempre, bisogna vederle, analizzarle e non giocare alla Playstation e sparare cose a cazzo. Prima di tutto iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un bel like anche se so che oggi parecchi interisti perché ce li ho con gli interisti, non tutti ma ce li ho con parecchi interisti, verranno a rompermi le palle, quindi prenderemo qualche dislike, ma non mi interessa perché sono fatto così, devo dire le cose come stanno. Ieri dopo la partita io ho detto, penso di ritenermi una persona sportiva, una persona che comunque dice le cose come stanno, non vado come va la bandiera, non va come va il vento, io dico le cose, penso di essere obiettivo. tante persone su YouTube non lo sono, non lo sono perché ieri io come dicevo nel mio video ho visto una partita equilibrata, ho visto un derby equilibrato, viziato da errori da una parte e dall'altra, vogliamo vedere i due rigori? Il primo è discutibile, diciamo che ci poteva essere come non ci poteva essere, non voglio fare quello che dice, no non c'era, diciamo che ci poteva essere. Viziato da cosa? Da un errore gravissimo di Franchesi, perché io Franchesi ieri lo reputo uno dei peggiori in campo, uno che chiede 8 milioni di euro e poi non sa gestire la palla e va poi a fare una cagata regalando rigore all'Inter, uno che sbaglia un gol a porta vuota non merita 8 milioni di euro, ma questo poi ci sarà tempo per parlare. Viziata da errori? Errore di Baloture che regala il secondo rigore all'Inter, errore del giocatore dell'Inter che fa l'autogol, tanti tanti errori, errori arbitrali, un derby comunque giocato alla pari, secondo me, perché l'Inter attaccava, il Milan attaccava, abbiamo visto, erano anni che non si vedeva un derby così a ritmi elevati, sembrava una partita di Premier League, l'arbitro lo lasciava correre, non fischiava, continui ribaltamenti di fronte, l'Inter ha giocato per, non so, una quarantina, cinquantina di minuti, il Milan nel secondo tempo è un po', si è un po' spento all'inizio ma poi si è ripreso, però all'inizio del primo tempo il Milan fino al rigore, diciamo i primi minuti comunque teneva il campo, io ho visto un derby molto molto equilibrato e chi cazzo salta fuori su YouTube? Gente che dice che il derby è stato dominato dall'Inter, è stato dominato dall'Inter, ma voi quale partita avete visto? Voi mi dovete spiegare sotto qua cosa avete dominato, anche perché le statistiche parlano, i numeri parlano e ve li faccio vedere, voi non avete dominato il derby, c'è stato uno scambio, uno scambio, un continuo ribaltamento di fronte, si teneva il campo, il Milan ha subito, ma come ha subito l'Inter? Perché come ci siamo cagati addosso noi? Vi siete cagati addosso voi, in alcune azioni, perché io vi voglio ricordare gente che ha scritto abbiamo fatto 200 tiri in porta l'Inter e siete stati inculati, ci hanno scritto, siete stati fortunati, perché l'Inter ha creato tantissimo, ha dominato 300 tiri in porta, ma la palla non entrava. Io mi ricordo, io mi ricordo nella partita di ieri, che di tiri in porta, se stiamo a vedere di tiri in porta, l'Inter ne ha fatto uno, ne ha fatto uno, quello che Baluture ha salvato sulla linea di porta. Poi c'è il tiro rimpallato da Calulu di Vidal, che non è mai ancora arrivato in porta, il tiro di Lautaro fuori dalla porta, il tiro di Lautaro Martinez al terzo anello, io non mi ricordo, ti importa dell'Inter pericoloso, il tiro di quella merda di Cialanogu che attraversa l'area di rigore ma nessuno la prende, mi ricordo anche un Milan che con Zlatan Ibrahimovic tira una cannonata su punizione, mi ricordo il tiro di Zlatan Ibrahimovic a girare sul secondo palo all'incrocio di pali, mi ricordo il palo del Milan, mi ricordo che sì che sbaglia il tap in vincente, mi ricordo Ben Asser che da posizione ottimale la tira alle stelle, io mi ricordo questo, non mi ricordo un Inter che ha dominato la partita, perché dovete dire che l'Inter ha dominato la partita? Ogni tanto bisogna essere anche obiettivi, bisogna essere anche obiettivi, il fatto che il rigore, il primo rigore, il secondo era netto, il secondo era netto, errorissimo di Baloture che sbaglia proprio posizione, è rimasto un po', si è fatto la capriola, si è girato sotto sopra, manco lui sapeva dove era la palla e falcia il giocatore dell'Inter, ma il primo rigore poteva esserci come non poteva esserci, non voglio attaccarmi al fatto che c'era o non c'era, ma quello che dico io, perché dovete dire che l'Inter ha dominato? Non è colpa nostra se voi sbagliate i rigori, il secondo rigore Lautaro Martinez l'ha tirato bene, è stato bravo Tatarusano a parare, potevate farlo tirare ancora con la merda di Ciananoglu, chi mi ha detto a voi di farlo tirare da Lautaro Martinez? Non è un problema nostro, io da questa partita, io da questo derby tiro fuori una cosa molto molto importante e lo dico sinceramente, non lo voglio dire da tifoso milanista, perché non voglio fare il tifoso milanista osannato per forza, io vedo una cosa, che il Milan gli scontri diretti non li perde, al massimo li pareggia, li abbiamo vinti la maggior parte, abbiamo vinto con la Lazio, abbiamo vinto con la Roma, abbiamo vinto con l'Atalanta, abbiamo pareggiato con voi, abbiamo pareggiato con la Juve, ma noi gli scontri diretti non li perdiamo, al massimo li pareggiamo, voi vi dovete domandare una cosa, perché voi non vincete gli scontri diretti, perché voi avete perso con la Lazio il scontro diretto, non vincete con la Juve, non vincete con il Milan, non vincete con l'Atalanta, voi vi dovete domandare questo, non è un problema nostro se voi non vincete gli scontri diretti, dovete pensare a quello che combinate in campo, basta, semplice, gli errori nella vita si pagano, e c'è questa grande differenza che il Milan è molto cinico, riesce a sfruttare anche con le poche occasioni che gli capitano, riesce a sfruttarle, e questa è la grande differenza ragazzi, è inutile che state lì a piangere e dire che l'Inter ha dominato, io non ho visto un Inter che ha dominato assolutamente, ho visto una partita alla pari, se devo parlare da sportivo, ho visto una partita alla pari, non che ho 80 minuti, vi abbiamo massacrato, ma dove, ma dove, mi ricorda anche un tiro di Leao al primo tempo da fuori aria, i tiri in parte li abbiamo fatti anche noi, il palo che vi siete cagati addosso, che sì, come vi dicevo prima, non merita 8 milioni, perché uno che sbaglia a Porta Vuoto non merita 8 milioni, che fa una cagata del genere sul primo rigore, perché è andato completamente in palla, la gestione della palla lì è stata completamente sbagliata, ha preso la palla, marcato, pressato da dietro in alto verso la nostra porta, cosa o errore, gravissimo, poi il rigore ci poteva essere come non ci poteva essere, io ho visto questo, io vedo un Milan che negli scontri diretti vince e convince, e non molla, ho visto un Milan che sa soffrire, sa ripartire, sa comunque reagire quando è in difficoltà, io questa cosa dall'interno la vedo, e questa è la grande differenza, detto questo chiudo il video, perché oggi ho veramente molto da fare, però mi volevo sfogare un attimo, ciao a tutti, iscrizione al canale, so che oggi mi prenderò un sacco di dislike, ma non me ne frega un cazzo, perché io sono convinto, e continuo a dirlo, che il Milan quest'anno è più forte dell'Inter.